Ma siamo un po' di tempo dalle prime corse della stagione passato, riesci a dirci se sei soddisfatto di come si sta sviluppando intanto il lavoro? Sì, sì, soddisfatto. Classico lavoro che si fa in ritiro, si fanno cose bene, si fanno cose meno bene. L'allenatore spera che si fanno sempre cose meno bene perché vuol dire che bisogna migliorare e bisogna lavorare. Quindi stiamo facendo un percorso di crescita che ci deve portare al 4 settembre ad arrivare a Puntino perché da lì si inizia a fare sul serio. Che campionato affronterete? Ci sono differenze o analogie con i tornei scorsi? Credo di no, perché non vedo squadre che magari si possono staccare in basso. Credo che sarà un campionato molto difficile, molto livellato. Ci sono squadre importanti che hanno fatto squadre per cercare di arrivare a vincere questo campionato. Quindi sarà un bel campionato, bisogna farsi trovare pronti perché già dalla prima partita noi avremo un inizio di stagione veramente molto importante dove ci dobbiamo far trovare pronti. Chi conosce il girone comincia a tirar fuori delle fasce nel campionato, comunque vi inserisce nella fascia d'elite, cioè fra le prime squadre del girone? Questo è motivo d'orgoglio perché vuol dire che abbiamo lavorato bene in questi anni, abbiamo fatto secondo me una squadra importante. Però sulla carta, sul tavolo, adesso bisogna lavorare, bisogna correre, bisogna dimostrare in campo che magari facciamo parte della prima fascia. E per farlo bisogna solo lavorare perché non conosco altri metodi per diventare una squadra di prima fascia. Poi c'è anche da dire che questo campionato riserva sempre delle sorprese, questo è il terzo anno che lo facciamo, c'è sempre una squadra che esce che magari nessuno si aspettava. E quindi è un campionato da prendere con le molle e partire sapendo di essere una buona squadra e cercare di fare il massimo. Un inizio di campionato mica male per voi? Io non mi sono mai lamentato perché credo che dobbiamo affrontarle tutte, poi all'inizio del campionato bisogna farsi trovare pronti. Sicuramente abbiamo tre partite in casa molto molto difficili, credo che saranno le squadre che lotteranno fino alla fine per vincere il campionato insieme a San Marino. E quindi sarà un bel inizio e speriamo di farci trovare pronti perché più punti riusciamo a fare all'inizio più acquistiamo autostima e sicuramente arriveremo fino alla fine per far bene. Ci basterebbe un sì o un no a questa domanda. In Camera Caritatis, parlando con i dirigenti, con il direttore, hai chiesto qualcosa in più? No, no, assolutamente. Abbiamo una rosa secondo me ampia anche per cambiare modo di gioco e quindi avevamo un problema sul 98, l'abbiamo risolto perché stiamo prendendo un ragazzo e quindi la squadra è competitiva e adesso bisogna solo lavorare per farsi trovare pronti il 4 settembre.